1, 2, 1, 2, 1, 4, con il numero 2 Anna Daniele, con il numero 3 Fraun Roberto, con il numero 4 Follesa Filippo, con il numero 5 Magia Michele, con il numero 6 Forro Stefano. il numero 7 Tizalis Giampaolo il numero 8 Angioni Alessandro il numero 9 il nostro bomber Croci Manuel con il numero 10 la nostra mascotte Casti Alessandro con il numero 11 il nostro campione Orcella Salvatore un applauso il nostro mister Miriam Rossano il suo impegno a portare con la polizia alla seconda categoria un'altra no Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.